Scominata dalla polizia di Pistoia, una banda di cittadini romeni dedita a furti con spaccata in danno di esercizi commerciali, in particolare bar, tabaccherie. Cinque le persone che la notte scorsa sono state sottoposte a fermo di indiziato di delitto, che per quattro dei quali si è trasformato in arresto, mentre al quinto soggetto è stato contestato solo un concorso nella ideazione. L'attività investigativa della squadra mobile pistoiese è iniziata nella prima decade di maggio, a seguito della commissione di una serie di furti commessi nottetempo a Pistoia e zone limitrofe, che avevano visto come obiettivi alcuni bar tabaccherie. Attraverso un'approfondita indagine e l'analisi di filmati sono stati acquisiti alcuni importanti elementi che hanno permesso di dare inizio ad investigazioni e spletate anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche, oltre che attraverso una serie di servizi sul territorio. È stato così possibile ricostruire il gruppo di cinque soggetti, tutti di nazionalità rumena, senza fissa dimora, e gravitanti essenzialmente nella zona ovest di Firenze, ad eccezione di uno che era residente a Pescia, in provincia di Pistoia. Sono stati ricostruiti e contestati cinque furti con spaccata commessi nelle province di Pistoia e Firenze nell'arco di tempo compreso tra il 10 maggio e il 13 luglio di quest'anno.